rtl cento due cinque giornale oraria. Una buona nottata da Angela Gugliare e Gabriele Manzo. Stato di emergenza ancora per tre mesi per superare l'inverno e mantenere pienamente operativa la macchina per il contrasto del covid. Mario Draghi decide di accelerare con due settimane di anticipo sulla scadenza del trentuno dicembre è pronto a portare in consiglio dei ministri subito è prevista una riunione per oggi la proposta di una proroga fino al trentuno di marzo. È morto a novantasei anni Falco Accame è stato ufficiale superiore di marina comandante del caccia torpediniere indomito fino a luglio del settantacinque eletto alla camera dei deputati prima nel millen novecentosettantasei poi nel settantanove tra le file del partito socialista italiano. È stato presidente e vice presidente della commissione difesa nonché membro della commissione parlamentare ed inchiesta sulle commesse militari. Nessuna convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi prima dello sciopero generale e quanto spiegano fonti parlamentari della maggioranza. Una convocazione che le stesse fonti ritengono non immediata neanche dopo lo sciopero. Lo sciopero è confermato noi abbiamo detto che siamo sempre disponibili al confronto ma per ritirare uno sciopero c'è bisogno di modifiche sostanziali. Non mi pare sia arrivata alcuna convocazione né ci siano elementi di novità ha dichiarato il segretario generale della UIL Bombardieri. Lo sport e il calcio Roma batte Spezia due a zero nella partita di chiusura della diciassettesima di serie A. La viabilità. Via Radio. Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete autostradale e vi informiamo che sulla sette Serra Valle Genova per programmati lavori di ammodernamento della rete resterà chiuso fino alle sei di questa mattina sia il tratto tra San Pierdarena e il Bivio con la dieci Genova ventimiglia in direzione di Milano sia il tratto tra il Bivio con la dodici Genova Livorno e il Bivio con la dieci in direzione del capoluogo Ligure. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon